Musica Telespettatori di Video 33 ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale con la politica. È dibattito aperto anche con toni piuttosto polemici sulla proposta depositata dall'assessore regionale Sep Nogler in tema di nuova legge elettorale, in particolare per il comune di Bolzano, in vista delle elezioni del maggio prossimo. Proposta che prevede una tripla soglia di sbarramento e che non piace soprattutto ai piccoli partiti. I tempi sono piuttosto stretti. Il disegno di legge dovrebbe arrivare in commissione entro dicembre ed essere poi al più tardi approvato dal Consiglio regionale a gennaio o al massimo all'inizio di febbraio. In caso contrario, Bolzano a maggio andrà a votare con la vecchia normativa elettorale, quella che secondo alcuni osservatori non è riuscita e non riuscirà a garantire alcun tipo di governabilità. Per questo l'assessore regionale agli enti locali Sep Nogler della SVP si è affrettato a presentare una sua proposta, i cui punti cardine sono soglia di sbarramento al 3,5% per i singoli partiti, al 7% per le coalizioni e al 2,2% per i partiti all'interno delle coalizioni. Allo studio anche la possibilità di un turno unico. Per l'opposizione si tratta di un chiaro assist a PD ed SVP. Ma non direi, sono a vantaggio anche ai partiti grandi, anche quelli di destra, è uguale sia per quelli di sinistra sia anche per quelli di destra, però è vero che è a vantaggio ai partiti più grandi. I piccoli partiti sono pronti a dare battaglia. Io sono contrario ad una legge che con le soglie, con lo sbarramento, con una proporzionale, se si vuol dire così, con una percentuale, secondo me bisogna ridurre il numero dei consiglieri, cancellare il secondo turno e è fatto. Penso che ci sarebbe una larga maggioranza nel caso che si optasse per il mandato fisso, cioè un baramento al 2,2% circa. Tutto il resto non è fattibile. C'è poi chi evidenzia la necessità di una nuova legge, ma ha a contempo l'esigenza di non forzare la mano. Stanno esagerando, nel senso che bisogna fare una via di mezzo e cercare di rendere Bolzano più governabile, mettere tre soglie di sbarramento e di tutto e di più, che poi magari rischia che comunque anche il partito che ce la fa non ha la possibilità di governare perché non ha più nessuno, magari vince... Cioè, le leggi si fanno sempre pensando di riuscire a togliere il nemico. I Verdi potrebbero tutto sommato trarre vantaggio dalla proposta Nogler, ciò nonostante... Non vorrei che ne pagasse la democrazia, per cui noi in genere sulle soglie siamo abbastanza perplessi. Passiamo ad occuparci di commercio. Piena soddisfazione da parte dei vertici dell'Unione Commercio per il limite del 10% per la vendita al dettaglio nelle zone produttive. In questa maniera si tutela e si supporta la rete di vicinato, come sottolineato dal vicepresidente dell'Unione, Dado Duzzi. All'indomani dell'approvazione del regolamento di esecuzione sulle zone produttive da parte della Giunta Provinciale, l'Unione Commercio esprime una certa fiducia e soddisfazione. Il tutto dettato dal fatto che questa decisione va nella direzione di tutelare e sostenere la rete di vicinato. In sostanza la quota di cubatura per il commercio al dettaglio non può superare il 10% di quella destinata ai servizi nelle zone produttive. Il regolamento di adottazione è di una norma che era stata emanata dalla provincia poco meno di un anno fa e che fa chiarezza su quelle che sono le possibilità di attuare o meno il commercio nei 116 comuni dell'Alto Adige. In 110 comuni dell'Alto Adige è possibile fare il commercio nelle zone produttive, ma d'altro canto anche mira a salvaguardare quello che è il commercio di prossimità in tutte le zone, sia urbane che rurali del nostro territorio. Da un controllo capillare che ha interessato tutta la provincia autonoma di Bolzano è emerso che in 110 comuni dei 116 presenti c'è ancora margine per applicare la quota del 10%. È un'apertura che va nei confronti di quella che era la famosa legge Monti, ma non è l'apertura così immaginata dallo stesso governo Monti che si potesse fare commercio al dettaglio nelle zone produttive senza nessuna regola. E questo è sicuramente importante per il principio che dicevamo prima, di salvaguardare anche il commercio di prossimità, soprattutto nelle zone rurali e nelle zone urbane. E quindi fa in modo che i comuni dell'Alto Adige, a differenza dei comuni del Nord Tirolo o anche del vicino Trentino, sono sguarniti da quello che è il servizio di prossimità. Noi non abbiamo nessun comune in Alto Adige che sia sguarnito di questo tipo di servizio, mentre in Tirolo ci sono più di 50 comuni e anche già nel vicino Trentino sono già più di 30 i comuni che non danno questa possibilità. Il regolamento intende assicurare uno sviluppo delle attività commerciali rispettando ambiente e assetto urbanistico, cercando allo stesso tempo di non penalizzare le piccole realtà. A Vilpiano gli automobilisti che non spegneranno il motore della propria auto nel caso in cui la sbarra del passaggio a livello abbassata prenderanno la multa. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco di Tarlano, Klaus Ruhner. Come spiegato dal primo cittadino, il provvedimento mira la riduzione dell'inquinamento che in quella zona è elevato a causa del traffico intenso. Questa linea è già stata adottata da altri comuni del nord Italia con risultati a quanto pare soddisfacenti. Per chi viaggia con i mezzi pubblici della Sasa Bolzano e Merano arriva una nuova rivoluzionaria applicazione mobile, la Sasa Bus App, pensata anche per ipo e non vedenti. presentati anche i dati di un sondaggio sul gradimento del servizio Sasa da migliorare le modalità di guida degli autisti. Un canale diretto tra l'azienda di trasporto pubblico Sasa e chi utilizza il bus per esprimere il proprio gradimento sul servizio, sapere in tempo reale dove si trova un mezzo piuttosto che un altro e avere informazioni riguardo al percorso da compiere. Queste sono alcune delle opportunità che potranno avere gli utenti che scaricheranno sul proprio smartphone la Sasa Bus App, presentata questa mattina dal presidente Stefano Pagani e dalla direttrice Petra Piffer. Un'app pensata anche per ipo e non vedenti. Su sollecitazione proprio anche dell'associazione ipo vedenti e non vedenti abbiamo voluto intervenire proprio con questa applicazione perché permetterà un annuncio vocale sullo smartphone che chiaramente sarà d'aiuto fondamentale ai non vedenti. Annuncio vocale che annuncerà il tipo di fermata però ha anche tutte le altre caratteristiche con le interconnessioni e tutte le informazioni che sono possibili avere da questa applicazione. Oltre a presentare questa pratica e comoda app per il presidente Pagani vi è stata l'occasione anche di rendere noti i risultati del sondaggio promosso da Sasa nel maggio scorso per capire il livello di soddisfazione degli utenti. Sasa si colloca da un punteggio da 0 a 10 mediamente sul 7,5-8. Questo significa che il giudizio da parte dell'utenza è un giudizio positivo. Sicuramente ci sono alcuni elementi da migliorare come ad esempio la modalità di guida degli autisti che pur raggiungendo un'ampia sufficienza però sicuramente viene un po' messa in evidenza in modo da dover migliorare. Dati confortanti arrivano invece per quanto riguarda il numero di persone sorprese senza biglietto. Devo dire che abbiamo messo in campo una serie di controlli aggiuntivi oltre a questo credo che la cosa più importante è il fatto che diamo una certezza della pena nel senso che chi non paga l'autobus e riceve la multa la multa dovrà pagarla perché nel caso in cui non fosse così viene aperta una posizione di cartella esattoriale da Equitalia e pertanto abbiamo dato una certezza della pena e questo sta dando già i primi risultati perché stanno calando notevolmente. Per quanto concerne la sicurezza invece sui mezzi pubblici di Sasa segnali positivi stanno arrivando grazie anche all'installazione di sistemi di videosorveglianza. Il fatto di essere videosorvegliati tutti i nostri mezzi dà quella sensazione, quella percezione di sicurezza che veramente riducono ancora meno dei minimi termini gli eventi violenti. Per sabato pomeriggio è fissata la consueta esercitazione antipiena su Adige e Isarco per verificare i sistemi di allertamento, comunicazione e intervento tra tutte le forze operative della protezione civile. Due le novità introdotte quest'anno l'allertamento di ferito in base alla necessità nelle varie centrali distrettuali di intervento e l'attivazione dei vigili del fuoco volontari direttamente attraverso la centrale provinciale di emergenza. Condanne per complessivi 60 anni di reclusione nel procedimento avviato in seguito all'operazione sabotage condotta in porto nel marzo scorso dai carabinieri che aveva portato a sgominare una maxi-organizzazione criminale dedita in particolare allo sfruttamento della prostituzione. Un blitz che aveva interessato la città di Bolzano ma anche Torino, Milano, Genova e Trento venne effettuato nel marzo scorso dai carabinieri 200 emiliti dell'arma impegnati con 70 gazzelle 3 unità cinofile, oltre 60 perquisizioni e in tutto 19 ordinanze di custodia cautelare per un totale di 22 indagati. L'operazione denominata sabotage portò a sgominare un'associazione a delinquere controllata da famiglie rumene che si occupava nello specifico di sfruttamento della prostituzione. Nella sua ordinanza relativa alle misure cautelari il GIP Walter Pelino definì letteralmente Racket, l'insieme delle attività criminali poste in essere dagli indagati. Il giro d'affari, ovviamente illecito, era colossale e le prove in mano agli inquirenti pressoché inconfutabili frutto di otto mesi di intercettazioni e filmati. Anche per questo gli indagati hanno preferito patteggiare pene che vanno dai quattro anni e mezzo a sette mesi di reclusione. Tra gli indagati, che hanno concordato la pena, anche un alto atesino. Era accusato di favoreggiamento della prostituzione per aver accompagnato a prostituirsi in auto una delle lucciole. Un ultimo dato, avendo scontato alcuni mesi di custodia cautelare, la maggior parte degli imputati non sconterà la pena in carcere, ma al più in regime di detenzione domiciliare. Nel prossimo servizio cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo di due fiere, quella di Agrialp e il Wine Festival, che hanno raggiunto ottimi risultati. Quasi 40.000 persone, esattamente 39.000 hanno fatto visita a 423 aziende italiane ed essere nell'ultima edizione di fiera Agrialp andata in scena nel quartiere fieristico di Bolzano. Una vetrina per conoscere le novità del mercato, ma anche per partecipare ai diversi eventi e convegni organizzati nell'ambito della fiera. Agrialp è la fiera più importante per l'agricoltura di montagna in tutta l'Italia settentrionale e soddisfazione è stata espressa per i risultati ottenuti in questa 24esima edizione dal presidente di fiera Bolzano, Armin Hilpold. Ricca la partecipazione di agricoltori addetti del settore. Dalla provincia di Trento sono arrivati circa un quinto dei visitatori, e ben il 40%. È arrivato da fuori regione, in particolar modo dalle regioni Veneto, con il 6,3% e Lombardia con il 4,8%. È successo di pubblico per un'altra manifestazione, il Wine Festival, andato in scena al Courthouse di Merano. Oltre 10.000, le presenze registrate nei quattro giorni, e un indotto stimato di circa 7 milioni di euro, con cantine partecipanti un po' da tutta Italia, dall'Europa e da diverse zone del mondo. Alla 24esima edizione, i visitatori hanno potuto degustare vini di aziende emergenti per passare a quelle di vecchie annate. Una finestra sul meglio della produzione vitivinicola che anche quest'anno ha centrato l'obiettivo. Passiamo ad occuparci di defibrillatori, perché a partire dal gennaio 2016, le società sportive dilettantissiche dovranno garantire durante i partiti allenamenti la presenza di una persona autorizzata a usare il defibrillatore in caso di emergenza. Grazie ad un accordo raggiunto nell'ambito della conferenza delle regioni e delle province autonome, tale autorizzazione sarà illimitata nel tempo. Questo via libera rappresenterà un enorme sgravio finanziario ed organizzativo per le società sportive. In concreto, infatti, ciò significa che la persona autorizzata ad utilizzare il defibrillatore lo potrà fare in maniera illimitata nel tempo e su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dai periodici corsi di aggiornamento previsti in materia. Un dialogo con l'arte e con queste parole può essere definito il calendario storico 2016 dei Carabinieri, giunto alla sua 83esima edizione. Storia, arte e pittura sono i fili conduttori del calendario storico 2016 dell'Arma dei Carabinieri, il quale è stato presentato alla stampa dal comandante provinciale Stefano Paolucci. Il messaggio contenuto nella pubblicazione è chiaro sia quello di mettere in evidenza il forte legame tra l'arma e l'arte attraverso immagini e frasi. Il primo calendario è andato in stampa nel lontano 1928, oggi è la sua 83esima edizione dopo un'interruzione post-bellica dal 1945 al 1949. Sostanzialmente è un prodotto che per noi tradizione e comunicazione allo stesso tempo è stato ancorato a temi importanti sia storici che sociali, dalla modernizzazione, dal contatto tra carabinieri e cultura, ha attraversato quello che sono stati i vari momenti anche dell'immaginario collettivo italiano, perché come possiamo ricordare oggi parliamo di i carabinieri e l'arte, riferendoci all'arte pittorica, abbiamo avuto contatti con il cinema, con la televisione, con tutti quegli aspetti che hanno sempre, insomma, ricompreso la figura del carabiniere e della nostra istituzione all'interno non solo della quotidianità ma anche di quelle che sono le espressioni artistiche del nostro paese, rendendo testimonianza della nostra costante presenza all'interno della storia d'Italia nei nostri 200 anni dalla fondazione. Il calendario conta una tiratura di oltre un milione di copie ed è stato stampato in quattro lingue straniere, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Anche della nostra programmazione, perché è previsto il quarto appuntamento, questa settimana con Sociale Oggi, la trasmissione a cura della ripartizione politiche e sociali della provincia di Bolzano. Nella puntata di questa settimana ci occupiamo del tema dell'adozione della campagna di sensibilizzazione promossa dalla provincia di Bolzano. L'appuntamento è su Video 33, il mercoledì alle 18.50 e il giovedì alle 13.15. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break e poi torneremo in studio con lo sport. Sancter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857 a Fumelli Sancter Specca Alto Adige Sancter Qualità e gusto Sancter Saper fare, saper vivere Respiro intenso, freschezza sorprendente con gli Active Plus senza zucchero Nel panificio a conduzione familiare Tranker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità con materie prime sane e genuine farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Tranker Da 60 anni, Tranker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità con un servizio impeccabile 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz e per ordinare dolci e pane fresco chiamate il numero 0474 972 112 Attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 Sabato dalle 8 alle 11.30 Panificio Tranker Il pane è natura E allora eccoci nuovamente in studio proseguiamo con lo sport hockey su ghiaccio Serie B si è giocato ieri sera l'anticipo della decima giornata di Serie B in trasferta l'Hockey Club Merano ha battuto il Val Pusteria Junior per 4 a 2 sabato e domenica prossimi si disputeranno tutti gli altri incontri intanto in testa la classifica comanda legna chiude la graduatoria e il feltre con 0 punti e con questo è tutto ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo Sulle Alpi persiste un campo di alta pressione con masse d'aria molto mite nel pomeriggio il tempo sarà molto soleggiato con cielo generalmente sereno per giovedì si prevede tempo per lo più soleggiato la giornata inizierà con cielo generalmente sereno eventuali banchi di nebbia in valla di Tures si dissolveranno al sorgere del sole con il passare delle ore da ovest in testa arriveranno però delle nubi alte le temperature nei prossimi giorni saranno in calo rimanendo tuttavia ancora sopra le medie del periodo venerdì il tempo sarà soleggiato con qualche nube alta in cielo durante il fine settimana le Alpi saranno interessate da forti correnti da nord ovest in quota sabato il tempo sarà abbastanza soleggiato con fene nelle valli mentre domenica si prevede tempo per lo più soleggiato anche se non si esclude qualche debole rovescio ed è tutto anche per questa edizione prima di salutarvi volevo ricordarvi il nostro indirizzo internet www.video33.it attivo anche il nostro profilo facebook vi ricordo un appuntamento che si sta davvero avvicinando ovvero quello della diretta la Rosengarten Hockey Night in programma venerdì 13 novembre alle 19.30 con l'incontro in diretta a Hockey Club Bolzano Villach l'appuntamento su Video 33 con questo è tutto a me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle 19 l'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif a Boutique New Time